In Campania sono 460 i contagiati, 60 nella sola giornata di ieri, lunedì 16 marzo, a fronte di 353 tamponi prelevati, 213 tamponi in totale, di cui 44 risultati positivi. A Salerno invece, nell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, 29 tamponi, di cui 5 positivi e presso l'ospedale Moscati di Avellino 34 tamponi, di cui 7 positivi. A ieri si registrano 11 morti. In queste ore la regione Campania attende un massiccio arrivo di mascherine FFP2 e mascherine chirurgiche che andranno alle strutture ospedaliere. Sul fronte degli ospedali, particolare sconcerto ha suscitato la notizia della positività al Covid-19 del direttore sanitario e del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Luigi Bambitelli. Intanto proseguono i lavori per allestire all'interno dell'ospedale Loreto Mare di via Marina a Napoli, un reparto riservato esclusivamente ai malati di coronavirus. Il presidente della regione Campania nelle scorse ore ha messo in quarantena interi i paesi. In provincia di Avellino, Ariano Erpino e in provincia di Salerno, Sala Consilina, Polla, Atena, Lucana e Caggiano a causa dei picchi di contagi. Intanto sabato scorso è stato sanificato il palazzo della regione in via Santa Lucia a Napoli, dopo che un consulente esterno è risultato positivo. L'uomo, che non ha avuto contatti diretti con il governatore Vincenzo De Luca, è in buone condizioni. Ora si trova in isolamento domiciliare.